Il paesaggio alpino, neve, freddo, lo scenario ideale per provare un fuoristrada, uno sport utility. In realtà oggi vogliamo provare qualcosa di diverso, ci troviamo infatti di fianco a una splendida cabrio, ma la contraddizione è solo apparente, perché in realtà ci sono due motivi che rendono questa vettura perfetta anche per la stagione invernale. Da un lato il fatto che una cabrio come questa moderna non ha più le controindicazioni che potevano avere le cabrio nel passato, quindi la capota ha una perfetta tenuità, sia al freddo, addirittura alla neve, non ci sono spifferi d'aria, non ci sono infiltrazioni, il comfort dentro è paragonabile a quello di una berlina e secondo motivo e forse più importante, questa non è solo una cabrio, ma è anche un Audi, quindi trazione integrale 4 e oltre a essere un Audi e addirittura un Audi con la S maiuscola. Questa versione di Audi S5 è la Model Air 2012 e la si riconosce per un frontale ristilizzato con proiettori a LED di nuova foggia, calandra nel tipico single frame Audi rifinita in alluminio e uno spoiler ancora più grintoso. Gli stessi motivi li troviamo anche al posteriore, riprende gli stessi temi aggressivi dell'anteriore con proiettori, anche loro tecnologia LED e soprattutto i quattro terminali di scarico ovali che danno un'impressione di grande potenza ed aggressività. Ma andiamo a bordo! La nuova S5 Cabrio monta un motore a 6 cilindri da 3 litri, turbo compresso con un compressore meccanico intercooler. La potenza è di tutto rispetto, si parla di 333 cavalli e la coppia di 440 Nm viene espressa già a partire da meno di 3.000 giri, quindi il comportamento stradale è sicuramente appagante e sportivo. Ma quello che colpisce nei primi metri al volante di questa vettura è la sua docilità. Infatti se non si esagera col pedale dell'acceleratore la vettura si lascia condurre tranquillamente anche alle velocità più ridotte. Insomma è una macchina con cui è possibile andarci a passeggio tranquillamente o quando si vuole, quando si richiede più potenza, divertirsi davvero come su una super sportiva puro sangue. Il piacere di guida di questa vettura è in parte dovuta anche al cambio, si tratta di una doppia frizione S-Tronic che può essere lasciata in modalità automatica o essere comandata dalle palettine al volante che permettono di cambiare e di scalare la marcia con una velocità impressionante. Infatti ricordiamo che la doppia frizione consente di effettuare sia le scalate sia i cambi di marcia in progressione senza perdere alcun regime di rotazione del motore. Il sistema Audi Drive Select che è un optional vivamente consigliabile su una macchina di questo livello consente tra l'altro di tarare la risposta della vettura in base alle proprie preferenze o al tipo di strada che stiamo percorrendo. Si può selezionare una modalità efficiency che minimizza consumi ed emissioni, una modalità comfort che predilige appunto la comodità di guida e la dolcezza di erogazione, una modalità automatica che diciamo è la modalità che va bene un po' per tutte le situazioni in cui la macchina capisce il tipo di guida che stiamo effettuando e adegua le risposte del cambio, dello sterzo, dell'acceleratore. È una modalità dynamic dove invece viene esaltata tutta la sportività della vettura, quindi i cambi diventano rapidissimi, in scalata si sente la classica doppietta che tanto gratifica gli appassionati. Oltre a queste modalità c'è addirittura la possibilità di andare su un'ulteriore opzione che permette di regolare i parametri in modo personalizzato. A livello di sistemi di infotainment questa Audi si colloca al vertice della categoria, infatti offre un sistema che consente di connettersi con ogni tipo di apparecchio, dal iPhone, iPad, smartphone e di visualizzare tutte le funzioni comodamente sul display centrale. Avete ancora dei dubbi sull'utilizzo invernale di una vettura cabriolet? Grazie. Le di vuote in pista non più. Le prove in pista, indipendentemente dalla loro lunghezza, sono il banco ideale per valutare i comportamenti sinceri di una vettura, dando per scontata la loro geometria caratterizzata da curve e controcurve studiate per premiare la bravura dei piloti e la tecnologia motoristica. Da questo punto di vista, il circuito di Castelletto di Branduzzo, omologato per gare internazionali di kart, rappresenta un banco di prova più selettivo per vetture stradali. Lo testimoniano le immagini che mi vedono impegnato alla guida della nuova Scenic e della X-Mode, entrambe dotate di nuovi motori energy, tutti con start e stop. 1,2 TCE benzina da 115 CV, 1,5 DCI da 110 CV, in grado di percorrere 100 km con 4 litri e 1 di gasolio emettendo solo 105 grammi di CO2. Completa la gamma il motore 1,6 DCI da 130 CV, il più ecologico della categoria considerando l'emissione di CO2 davvero contenuta, 114 grammi con un consumo di 4,4 litri per chilometro. Va detto che tale propulsore della 6 Energy porta nel suo DNA alcune innovazioni motoristiche sperimentate in Formula 1 con l'U-Flex, l'anello raschiaolio grazie al quale migliorano la resistenza, la leggerezza, la fluidità e il consumo. C'è da aggiungere che le immagini valgono più delle parole, sorprendente è la tenuta di strada a velocità sostenuta anche nelle curve impegnative, nonostante la struttura del monovolume a guida alta, ma anche la buona insonorizzazione all'interno dell'abitacolo collettore finale del pacchetto Comfort. Dal punto di vista estetico la X-Mode si caratterizza per il frontale più aggressivo, mentre la Scenic per la sua abitabilità interna, 40 alloggiamenti, una console centrale scorrevole di 9 litri, un vano bagagli da record grazie ai sedili di terza fila ripiegabili e alla rimozione dei sedili della seconda fila, per un totale di 2063 decimetri cubi. In questo servizio parliamo di tecnologia in modo appropriato perché siamo su una pista di velocità dove abbiamo potuto provare queste Renault dotate di nuovi motori, parliamo del 130 cavalli, poi del 110 e del 115, ma andiamo con ordine. Cominciamo con la storia di queste motorizzazioni che derivano intanto da un'esperienza importantissima che Renault per tradizione svolge, dalla Formula 1 in giù. Diciamo che è la marca più presente nel mondo dello sport motoristico. Assolutamente, l'innovazione per tutti è proprio nel DNA di Renault e questo vuol dire eccellenza motoristica derivante dal mondo dello sport, Formula 1 e rally. Dal mondo del Formula 1 abbiamo migliorato le motorizzazioni con il discorso del risparmio energetico e dal rally siamo riusciti a migliorare telaio e sospensione, dunque offriamo veramente dei prodotti altamente tecnologici. Noi abbiamo provato sia la X-Mode sia la Chenique e devo dire che ci sono molte qualità da sottolineare, a partire dal loro comportamento in pista, facilissimi da guidare, sorprendenti data la struttura della macchina che è una macchina familiare. Assolutamente, l'innovazione per tutti è in tutti i campi, anche nella sicurezza, il telaio migliorato grazie all'esperienza del rally. I motori Energy sono la perfetta combinazione, come dicevi tu, tra consumo, tra emissioni di CO2 e performance. L'ultimo arrivato che è il 1.5 DCI per esempio ha un consumo di 4,1 litri per 100 km, emissioni di CO2 di 105 grammi al km e una performance di 180 km orari. La differenza dei primi antiparticolato che venivano ovviamente applicati a motori già esistenti, essendo tra l'altro di ultima generazione, ha avuto il vantaggio di essere inserito in un concept originale e quindi più organico e forse più equilibrato in funzione di quello che deve acquistare. Assolutamente, questo grazie al fatto che abbiamo due ingegneri che hanno fatto il successo della Formula 1, Jean-Philippe Mercier e Philippe Koblans, che hanno lavorato in team sui motori Energy e dunque hanno proprio usato le conoscenze delle motorizzazioni sportive spingendo al limite il discorso di downsizing e rendendo queste motorizzazioni le più competitive possibili sul mercato. Senza volervi tediare più di tanto, io credo che questa semplice prova, fatta tra l'altro anche sulle strade attorno all'autodromo, che però hanno consentito di valutare i comportamenti della vettura non solo sollecitata in pista ma anche appunto nella conduzione diciamo più tranquilla e più serena ma al tempo stesso più impegnata. Ecco io concluderei questo servizio invitandovi a provare questa Renault, sarà una sorpresa. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!